All'interno del polo aeronautico di Forlì, che sta vivendo una rinascita grazie alla recente apertura dell'aeroporto, l'Istituto Baracca costituisce il primo segmento di una formazione di elevata qualità nel settore dell'aeronautica e rappresenta un'unicità a livello nazionale. I nostri studenti provengono da ogni regione d'Italia e trovano all'interno della nostra scuola un ambiente professionalmente elevato ed umanamente accogliente. Dove sei atterrato? A casa. Perché? Di dove sei? Perché, come tanti di questa scuola vengono da fuori, anch'io sono i padroni. E come mai hai chiuso proprio questa scuola? Perché ho sempre il sogno di fare il pilota e volevo fare un aeronautico e quindi ho deciso di cercare la migliore scuola possibile da qui a Forlì. Gli indirizzi di conduzione del mezzo aereo, costruzione del mezzo aereo e logistica garantiscono una collocazione o una naturale prosecuzione degli studi nei diversi ambiti del settore aeronautico, ma offrono anche solide basi per orientamenti di diversa natura. Il progetto Dada consiste in una suddivisione delle classi, delle aule non più assegnate agli studenti, ma assegnate ai docenti. In questo modo si realizzano delle didattiche per ambienti di apprendimento, cioè gli studenti sono ospiti ogni volta in un'aula che è dedicata all'insegnamento di una materia specifica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, come è andata? Ti è piaciuta la scuola? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.